ok ciao ragazzi come state passando la quarantena io abbastanza bene sto lavorando sto lavorando orario ristretto spero che la state passando bene anche voi che in famiglia vala tutto bene comunque oggi siamo qui con un nuovo video redmi 9s quindi la novità di questo mese in casa redmi non vedo l'ora di provarlo diciamo che ha adottato anche lui il buco nello schermo come la tendenza di samsung in questo periodo andiamo a vederlo e facciamo anche una piccola comparazione con redmi not 8 passiamo al video siamo con l'unboxing allora zac sono molto curioso di vedere questo nuovo questa nuova versione di redmi quindi del not 9 s e partiamo con la scatola la scatoletta che di solito contiene ovviamente la cover di protezione offerta in omaggio da xiaomi in questo caso da redmi manuale d'uso e garanzia poi il telefono bello sostanzioso in mano e questo è redmi not 8 un secondo bello sostanzioso in mano e compariamoli allora il design è leggermente più grande come vedete circa mezzo mezzo centimetro le quattro fotocamere secondo me sono molto più belle messe in questa posizione quindi il design ci guadagna esteticamente è pesante più pesante di redmi not 8 e accendiamolo dai vediamola un attimo acceso e intanto che si accende andiamo anche a vedere cosa c'è bellissimo il colore posteriore veramente bello molto bello va bene intanto che sia il tasto vedete che il tasto cambia e rimane leggermente incassato quindi molto bello quindi non so se si riesce a vedere la differenza rimane leggermente incassato come per mi 8 e mi 9 va bene dai andiamo l'accensione ok si è acceso ovviamente motorizzato miui 11 e intanto che lo configuro con la lingua italiana eccetera 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 andiamo a finire l'unboxing nella scatola poi potete trovare il connettore di ricarica in type si fast charger quindi la spina per caricarlo rapidamente e ci dovrebbe essere qualcosa qua sotto no sotto neanche come al solito cuffie non se ne parla con redmi va bene dai passiamo alla configurazione poi facciamo una breve comparazione con redmi not 8 questo ok ragazzi il telefono in questo momento sta eseguendo il backup il negozio seguendo il backup quindi ovviamente l'ho lasciato fare ho aperto apro questa piccola parentesi perché volevo dirvi che caricando il backup ho individuato due particolari che non mi piacciono tantissimo allora non sono rilevanti da dare proprio fastidio uno forse sì per qualcuno ma l'altro diciamo ha una rilevanza minore quello con la rilevanza minore è che comunque effettivamente è un po pesante come telefono però questo è ovviamente dato dalla batteria che è molto capiente il secondo visto dal punto di vista di un mancino come me e quindi se siete mancini può essere una cosa che può dar fastidio e questo comunque lo vedrò vivendo il telefono è lo sblocco biometrico sul tasto lo sblocco biometrico sul tasto per un mancino è una cosa un po scomora perché noi dobbiamo utilizzare l'indice e non è molto comodo cioè non so come spiegarvelo se tu sei mancino devi sbloccarlo con lo sblocco biometrico quindi con l'impronta digitale devi usare l'indice se sei destro usi il pollice e si appoggia bene tutto quanto sarà un problema ovviamente lo scoprirò solo utilizzando il telefono però volevo partire con questa piccola premessa dei due problemi che ho riscontrato diciamo pronti via appena dopo aperto la scatola quindi se siete un mancino riflettete su questa cosa allora specificate queste cose che secondo me era mio dovere fare perché comunque possono essere un problema allora niente di trascendentale però il peso effettivamente c'è e lo sblocco biometrico sul tasto adesso è funzionato benissimo prima mi ha dato qualche problemino in più era solo per essere chiari è niente ripeto niente di trascendentale detto questo andiamo a vedere un po più nel dettaglio redmi note 9s certo anche noi potrebbero farli un po più corti comunque nelle sue specifiche che il livello è buono dicono che questo telefono è votato per l'imaging ed è in grado di soddisfare anche l'utente più esigente questo non lo dico io ma lo dicono blog di settore allora sorprendente secondo me il touch screen da 6 e 67 quindi in orizzontale per così che è molto ampio ottimo sicuramente anche per i gaming allora la risoluzione di questo ampissimo schermo di redmi note 9 s finché quanto è lungo è di 2.400 per 1080 pixel poi allora in generale parte con l'android 10 e la miui 11 quindi vedete che non ha sbloccato subito e la miui 11 le dimensioni sono 165 punto 75 per 76 punto 68 per 8,8 mm di spessore il peso di 209 grammi rispetto ai 170 che aveva per dire redmi note 8 il prezzo è accettabile sicuramente va nella categoria best buy è molto interessante il buco nello schermo lo chiama io lo chiamo il buco dello schermo il buco dello schermo perché lo fa entrare con questa cosa più nella linea in questa nuova linea che ha nuova neanche poi così nuova comunque in questa linea che ha lanciato samsung con s10 diciamo che dal punto di vista potenza parliamo di un processore da 2 3 giga e più un giga e otto snapdragon 720 g della qualcomm 64 bit quindi allora 4 giga di ram in questo caso 64 giga di memoria espandibile fino a 512 come dicevamo appunto prima lo schermo è da 6.67 la risoluzione appunto da 1080 per 2400 pixel la densità del pixel quindi il ppi è di 395 è un ips retroilluminato non un lamo un amoled questa cosa può essere brutta da un certo punto di vista ma sicuramente se avete le mani di burro il telefono vi cade come se non ci fosse un domani costerà sicuramente cambiare lo schermo nel momento in cui si rompe comunque è un gorilla grass 5 fotocamera che sicuramente una delle cose che vi interessano di più la fotocamera è sempre da 48 megapixel più una da 8 e da 5 e da 2 megapixel per effetto bokeh garantito e di ottima qualità la risoluzione della fotografia massima è di 8000 per 6.000 pixel poi stabilizzatore digitale autofocus e tutte le disponibilità la fotocamera frontale è da 16 megapixel f2 quindi anche questa offre dei bellissimi effetti bokeh passiamo la parte video registra video in 4k con la densità del pixel a 2160 sono in 30 fps poi c'era ovviamente vabbè autofocus lo motion stabilizzatore fotocamera frontale invece i video le riregistra in full hd 30 fps parte più interessante di tutte probabilmente la batteria che da 5 mila e 20 pixel si perdona 20 mili ampere quindi una batteria che mi aspetto che per essere un telefono da lavoro io questo uso soltanto negli orari lavorativi lo uso io e i miei collaboratori soltanto negli orari lavorativi mi aspetto che duri in minimo minimo una settimana piena diciamo che come fascia di prezzo va sicuramente a a scontrarsi con p30 light 40 ancora no secondo me ancora troppo alto come prezzo galaxy a 50 non la 51 va a prendere quella fascia di prezzo diciamo su quella fascia di prezzo allora la dico così andiamo un po toccare il design secondo me il design con note 9s è migliorato parecchio ma veramente parecchio rispetto a redmi note 8 cambia veramente proprio meno grezzo più raffinato molto più raffinato si avvicina quasi a un samsung galaxy a 51 esteticamente veramente bello veramente un bel telefono anzi secondo me è un po copiato cioè hanno un po copiato appunto galaxy a 51 ovviamente l'interfaccia rimangono quelle di show me adesso lo utilizzerò un po diciamo lo cercherò di utilizzarlo un po metterlo anche sotto sforzo e poi vi dirò cosa ne penso fra un video che farò penso fra una settimana voglio provare bene la fotocamera il telefono è bello rimane un po pesante scomodo per i mancini il blocco biometrico messo sul tasto però devo dire che gli do 8 di dossi do dagli una valutazione do 8 mi piace detto questo ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale ovviamente lasciate un like scrivete nei commenti cosa ne pensate ciao che ragazzi